Sì, volevo aggiungere che il Marina Militare ci tiene a far sapere che il primo in realtà check medico avviene proprio a largo, perché quando loro fermano queste navi, queste barche, questi barconi, hanno dei medici a bordo, quindi i primi monitoraggi avvengono immediatamente e comunque le autorità locali, tranne il sindaco di Modica che ieri ha lanciato un allarme proprio sul suo ospedale che dice non ce la facciamo più, manca personale e posti letto, le autorità locali non hanno lanciato l'allarme per la tubercolosi, perché non ci sono casi numerosi accertati, comunque volevo solo lasciarvi dicendo che è in arrivo Matteo Salvini, direttamente da Pontida, perché ha annunciato uno sbarco in Sicilia a proposito di... Sì, va bene. Sì, va bene. Sì, va bene. Grazie a tutti